Ti devi sposare? Vuoi arredare la tua casa? Vuoi trovare il giusto equilibrio psicofisico? Vieni a trovarci a Pianeta Sposi. Il primo meeting sposi, casa, benessere, il 17, 18 e 19 ottobre, presso la sala ricevimenti, ritrovo Marion, Melito, madrina dell'evento, direttamente da 100 vetrine, Daniela Fazzolare, in arte Anita Ferri. Pianeta Sposi. Ti aspetta.